benedizione degli oggetti di devozione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo la grazia e misericordia e pace del Padre, Figlio e Spirito Santo siano con tutti voi dalla lettera di San Paolo ai Filippesi fratelli e sorelle, rallegratevi nel Signore sempre ve lo ripeto ancora, rallegratevi la vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini il Signore è vicino non angustiatevi per nulla ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti è la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù benedetto assi tu Padre origine e fonte di ogni benedizione che ti compiaci della crescita spirituale dei tuoi figli mostraci la tua benevolenza e fa che portando questi segni di fede e devozione ci impegniamo a conformarci all'immagine del Figlio tuo che vive e regna nei secoli dei secoli che si benedica Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo posso seguire la preghiera di guarigione grazie a tutti 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 Siamo venuti a te con i nostri problemi, con le nostre difficoltà, sapendo che tu puoi aiutarci. La tua misericordia e il tuo amore immenso stasera ci radunano attorno a te, ci inviti di venire a te, donare a te tutti i nostri problemi, le nostre malattie, quello che è di peso, perché tu possa liberarci, perché tu possa donarci una vita nuova. Signore, noi siamo venuti a te e a te doniamo la nostra vita, tutto quello che è nostro. I nostri cuori portiamo a coloro perché siamo venuti a pregare, siamo venuti a chiedere tua misericordia, Signore guarda loro, esaudisci le nostre preghiere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alleluia. Noi confidiamo in Te. Noi crediamo in Te. La nostra fede spesso è debole e facilmente vacilla nelle tentazioni di questo mondo. Sì Tu la nostra pietra d'angolo, Signore. Sì Tu la base per la nostra fede. Rafforzaci di Tua parola affinché sempre possiamo testimoniare la nostra fede in Te, Signore. Grazie. Grazie a tutti. 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 Doniamo tutto a Te, Signore, perché sappiamo che solo Tu sei la via, la verità e la vita. Solo Tu puoi rinnovare il nostro essere. Perciò, Signore, a Te doniamo tutto. Tu ci liberi e ci rinnovi a una vita nuova. Giusti Agbe. Sforzaci nella fede, Signore. Vivere i doni che Tu ci doni, guardaci. Bendici noi. E guariscici da tutte le nostre difficoltà. Chi riei lei son, chi riei lei son, christe lei son, chi riei lei son. Chi riei lei son, chi riei lei son. Voi, le vostre famiglie e tutti coloro, perché stasera avete pregato, benedica di ogni potente padre, figlio e spirito santo.